È una buona notizia che si riprende a giovedì, però è anche allucinante, perché viene da chiedersi perché ci siamo fermati il lunedì. La mia sensazione è pressioni internazionali, che è l'ennesimo omaggio alla Germania. La Merkel si è spaventata, ha fermato tutto, c'è stato il giro di telefonate fra i ministri della salute e noi ci siamo adeguati. Vale la solita regola, un morto in Germania, otto morti in Italia al giorno, dice la dottoressa Salmaso. È una cosa, secondo me, piuttosto allucinante. Il dato vero è che in Inghilterra, prima della vaccinazione, c'erano più di mille morti al giorno, adesso sono meno di cento, una sessantina.